beh c'è una persona che vi sto per presentare non so da dove cominciare nel presentare Emanuele Macaluso che è collegato con noi se dall'uomo di marketing comunicazione dallo sportivo insomma i piani si intrecciano voi dovete sapere che è stato il primo eh atleta italiano a pubblicare il proprio bilancio sociale il progetto è il progetto M314 no che è il nickname con cui Emanuele Macaluso è conosciuto in una delle discipline dei cosiddetti sport estremi no il cross country ecco ma ci racconta Emanuele Macaluso un po' come nasce questa idea ma se ha avuto modo di ascoltare anche gli interventi precedenti che impressione si è fatta questa mattina? Ma intanto buongiorno mi sono fatto una bella impressione perché di solito come comunicatore divulgatore e anche come atleta vengo eh invitato in circostanze in cui ci si domanda se sia il caso di fare qualcosa a favore della della sostenibilità sociale ambientale mentre invece oggi la differenza sta nel fatto che non ci stiamo più facendo quella domanda ma stiamo pensando a come concretamente dare il nostro contributo eh per quanto riguarda me la questione del del bilancio di sostenibilità è stata un'azione assolutamente naturale perché eh ormai dal duemila e undici quando ho scritto il manifesto del marketing etico che impongo sostanzialmente che in tutti i progetti nei quali io prendo parte debba essere fatto il bilancio di missione questo perché ritengo che sia un un fatto di trasparenza ma anche di eh formazione ed educazione soprattutto se il bilancio sociale viene fatto in modo che anche il comune cittadino possa eh possa leggerlo eh all'inizio del duemilaventi a gennaio abbiamo pubblicato il bilancio sociale di missione e la stampa eh mi ha decretato in qualche modo mi ha indicato per questo come l'atleta più green d'Italia perché a quanto pare sono stato il primo singolo atleta nella storia dello sport che ha fatto questo documento. Dico questa cosa perché mi dà il là intanto nel ringraziarvi per questo gradito invito volevo ringraziare nello specifico anche Roberto Carnevali, Paola Casati e Romano Ugolini eh volevo anche ringraziare ovviamente Lega Ambiente per lo straordinario lavoro che state facendo e appunto eh anche il progetto del quale stiamo parlando in qualche modo oggi toglie quel grado di autoreferenzialità che è particolarmente importante da togliere eh quando si parla di sostenibilità e ambiente perché rischia poi eh di essere troppo autoreferenziale può dare là ad azioni di greenwashing. Il fatto di avere un ente terzo che in maniera indipendente possa dare delle direttive, dei parametri certi da seguire sicuramente può aiutare il mondo dello sport così come le aziende ma contemporaneamente credo che possa dare anche un valore aggiunto a quelle che sono tutte le attività di contorno alle azioni stesse. Grazie abbiamo avuto un piccolo problema di ritorno in diretta ma non si preoccupi eh sta andando anzi puoi cedere anche al tu con me visto che facciamo va bene ok mi metto non mi metto nel tu purtroppo la reformazione professionale giornalista porta a dare sempre del lei quando si intervistano le persone andiamo sul tu che va benissimo così essere essere il primo l'atleta più green d'Italia il primo che pubblica un bilancio sociale è un sicuramente una nota di merito però abbiamo visto che l'Italia è ricca di queste eccellenze non fa sistema cioè non non c'è un po' l'impressione anche questa mattina che è uno dei motivi per cui fatichiamo poi a a a condividere questi risultati è l'idea che insomma siamo il paese dell'eccezionalità? Beh c'è un fattore innanzitutto culturale se mi permetti di dire perché comunque diciamo che l'italiano di per sé ha grandissime individualità e poi questa individualità è difficile eh metterle insieme quindi eh proprio da questo punto di vista poi si rientra all'interno di quei fattori di valori che accennavo poc'anzi anche con queste partnership tra Eco Events, Legambiente, eh la nuova ecologia eh bisogna avere secondo me eh non solo la forma mentis per farlo ma anche talvolta eh l'umiltà e la volontà di voler condividere qualcosa che sentiamo nostro con gli altri. Credo che eh le questioni ambientali e sociali noi parliamo sempre di social di sostenibilità sociale ambientale e l'abbiamo suddiviso perché per motivi tecnici così possiamo entrare nello specifico. La verità è che però non può esistere sostenibilità sociale e ambientale senza l'altra perché le due cose sono strettamente collegate. E proprio da questo dovremmo partire. Eh io credo che ehm al di là di eventi come questi quello che bisogna fare sia proprio imparare a collaborare a mettere a disposizione degli altri eh quello che sappiamo fare e quello che soprattutto possiamo e dobbiamo fare. Un'altra cosa mi permetto di dire che mi ha colpito molto eh questa mattina è che eh nessuno qui ha messo in dubbio il fatto che bisogna arrivare a degli obiettivi di sostenibilità eh rispetto ad altri ambiti ad altri panel ai quali ho avuto il piacere di partecipare. Allora diciamo che è così da atleta di mountain bike mi fa particolarmente piacere sapere che ormai siamo partiti e non è più un'opzione cercare di capire se dobbiamo arrivare al traguardo eh dobbiamo arrivarci il prima possibile. Se ci dovesse dare un suggerimento da condividere perché questo è un percorso è una tappa che inizia no? A proposito di di eh legami anche metaforici non solo con lo sport per questo programma questa piattaforma questa idea che stiamo cercando di costruire insieme che cosa chiederebbe Emanuele Macaluso oggi in particolare alla politica e alle istituzioni perché questa transizione verso la sostenibilità sociale economica diventi concreta dovendo scegliere che cosa manca davvero cosa chiederebbe lei? Di ragionare ehm non da politici ma come esseri umani eh perché eh nel nel fatto specifico questo tipo di argomento questo tipo di tema sul quale cerchiamo di dare il nostro contributo è un qualcosa che deve uscire al di fuori di quelli che possono essere interessi specifici dal punto di vista diciamo eh professionale se vogliamo vedere la politica come una professione. Dobbiamo capire che al di là di mirabolanti uscite anche di natura scientifica sul fatto che potremmo andare verso altri pianeti eh la verità è che questo è l'unico pianeta che abbiamo siamo in tanti le risorse sono quelle che sono e dobbiamo cercare anche di capire come tutelare gli interessi di chi vengono di chi vienrà dopo di noi eh però oltre a dire qualcosa visto che siamo su delle piattaforme media che vanno anche a parlare dalle persone comuni e non bisogna sempre dare le responsabilità soltanto alla politica e alle istituzioni eh se posso rivolgere un pensiero alle cosiddette persone comuni che poi fanno cose speciali tutti i giorni eh quello che mi piacerebbe è di non fermarsi perché non si possono fare grandi cose ma di fare concretamente piccole cose all'interno della loro giornata. Ci auguriamo davvero anche noi Emanuele Magaluso che questo nostro incontro abbia suscitato questa risposta anche da chi ci sta seguendo su diverse piattaforme e abbastanza numerosi per la tipologia di eventi che abbiamo fatto io ho detto all'inizio è soprattutto un incontro di lavoro perché sappiamo che è l'inizio di un percorso e in questo legambiente è impegnata insieme ai co-events. Grazie davvero di cuore in bocca al lupo per tutte le sue sfide sportive comunicative magari che qualche altro atleta le cominci a fare concorrenza con i bilanci di missione via. Lo vorrei tanto, lo vorrei tanto. Ok grazie, buona giornata.